Il mondo della scuola si adatta alla pandemia da coronavirus e lo scenario più probabile al momento è quello che non si rientri in aula per finire l'anno. La data chiave è quella del 18 maggio. Se le lezioni riprenderanno l'esame di terza media, la secondaria di primo grado, sarà semplificato e gli esami di stato saranno condotti da una commissione composta da docenti interni con il solo presidente esterno, la prova di italiano gestita dal ministero, la seconda specifica dalla commissione e quindi l'orale. Se non si rientrerà l'esame di terza media sarà sostituito da una tesina. Gli esami di stato si svolgeranno tramite una sola prova orale. È evidente che bisognava comunque procedere con un processo di semplificazione dell'anno scolastico vista la estrema difficoltà a tornare in aula. Questo anche in virtù del fatto che noi non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo comunque una situazione di edilizia scolastica che non sarebbe in grado di gestire un distanziamento sociale che è richiesto anche in virtù dell'emergenza epidemiologica. Quindi è evidente che una semplificazione era necessaria. Se l'attuale è fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria e dalla necessità di contenere la diffusione del virus le maggiori attenzioni si concentrano sulla prossima stagione scolastica. Le promozioni automatiche di quest'anno non comportano il se politico ed eventuali insufficienze fin qui maturate vanno compensate a settembre con il recupero e reintegro degli apprendimenti. Ci sono però tanti nodi intanto quelli inerenti il personale sul fronte precari e sul fronte del mancato aggiornamento delle graduatorie. C'è un dramma vero che è quello dei precari. Noi abbiamo la necessità anche di dare un futuro a centinaia migliaia di persone in tutta Italia ma anche in Abruzzo che attualmente fanno funzionare le scuole. Sappiamo che la scuola abruzzese l'anno scorso ha dato luogo a circa 2000 supplenti annuali fino al termine dell'attività didattica. Non si tratta di supplenti brevi che sostituiscono solo in caso di malattia ma fanno parte appunto dell'organico stabile sostanzialmente di questa scuola. Che fine faranno i concorsi? Come si faranno le stabilizzazioni? Tutto questo non c'è e soprattutto non si prevedono nemmeno dei percorsi semplificati. Noi sappiamo che non è possibile fare dei concorsi in questa situazione epidemiologica. Poi c'è anche un altro problema. Non si prevede l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto. Le graduatorie d'istituto sono tre anni che non vengono aggiornate. Ci si dice che questo non è possibile in virtù dell'emergenza epidemiologica. Secondo noi sono tutte scuse perché se si vuole si trovano le possibilità. Troppo materiale cartaceo ha detto la Ministra Zolina. Secondo noi sono scuse perché quando abbiamo chiesto del rinvio delle procedure di mobilità che attualmente ci sono ci dicono no perché ci stanno le procedure online e si possono fare. Quando invece noi chiediamo di fare le graduatorie d'istituto utilizzando le procedure online ci si dice che c'è il cartaceo. Poi la didattica a distanza che può risultare utile in questa fase di emergenza ma la scuola vera si fa in aula anche perché il digital divide è uno scoglio difficile da aggirare per tanti territori e famiglie. Pensare che si possa organizzare la scuola con la didattica a distanza vuol dire ledere i principi della Costituzione. Circa il 40% in base a quelli che sono gli stessi dati Istat. Nel mezzogiorno non hanno nemmeno un computer all'interno delle case. Il 37,5% delle case abruzzesi non gode di una connessione internet. La situazione emergenziale va bene ma la scuola è un'altra cosa da un punto di vista ovviamente di socializzazione, educativo e quant'altro. Pensare di poter portare la didattica a distanza come ordinaria all'interno delle nostre classi noi pensiamo che sia assolutamente assurdo.